ciao a tutti allora oggi vi faccio un video dove vi voglio mostrare degli stampi che ho ordinato da moon rose kingdom e voglio farvi l'unboxing appunto in diretta visto che da un po che non faccio video di questo genere e allora utilizzando il telefono del mio caro marito mi aiuta visto che il suo telefono è fatto meglio mi fa i video migliori pensate se non era questo il telefono allora voglio ho deciso di fare appunto il video unboxing senza aver visto prima cosa c'è dentro in realtà lo so gli ho ordinato due stampi uno natalizio visto che siamo a fine ottobre e natale si avvicina e uno estivo ma non importa che non è più estate sono delle formine marine aiuto occhio che non voglio qua c'è già qualcosa all'inizio non voglio tagliare niente certo che almeno tagliarlo potevo tagliarlo prima vabbè allora benissimo adesso anche figo c'era l'acqua questo è il loro timbrino e adesso tiro fuori vuoi cos'è oh sarà contento questa è una storia un po lunga diciamo che oltre a quest'ordine ne deve arrivare anche un altro fatto da da silvia che ho fatto da silvia e a entrambe ho raccontato del fatto che appunto essendo in un periodo economico molto difficile molto particolare dovevo avere l'approvazione diciamo così del marito per fare spese creative e quindi gli ho detto che avrei fatto gli occhioni dolci queste cose per l'approvazione e non so se avevano già visto qualche mio video in cui l'ho detto che a mio marito piacciono i dolcetti e queste cose qua e a chi è che non piacciono visto che c'era stato uno swap dove praticamente mi avevano spedito delle caramelline lui me le aveva rubate se lo ritrovo ve lo metto poi tra i link magari alla fine del video e allora ridendo e scherzando avevano tirato fuori dai mettiamo un dolcetto anche per lui faccio ah si allora se lo mettete lo fate solo felice ed eccolo qua ma dopo poi queste sono di una bontà ah sarà contento dopo glielo faccio vedere allora leggiamo una letterina ciao tesorina spero che sia tutto il tuo gradimento e che funzioni alla perfezione tra gli omagini troverai un sacchetto d'organza ok sono le eccedenze tagliate e che per il riuso del materiale noi doperiamo come profumo armadi auto cassetti fa sentire ma dopo è buone è vero ah si guardate sono eccedenze non ci avevo fatto caso praticamente dei vari stampi visto che loro fanno gli stampi profumati ma dopo è buono ah 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 un bacione beh qua c'è tutto qui ci sono eccoli qua beh ringraziamento e quant'altro allora vi faccio vi lascio qui mentre lo leggo anche i consigli per l'utilizzo degli stampi perché sono molto utili anche per qualsiasi stampo eh fatto a mano allora i nostri stampi sono artigianali quindi consigliato lavarli con acqua tiepida e sapone poi asciugarli per bene prima di utilizzarli le prime volte questo non comporterà danni la profumazione dello stampo poi per una migliore conservazione dello stampo a una durata più ampia è consigliato conservarli scosparsi di borotalco e non ammassati per non deformarli giusto se utilizzati con la resina è consigliabile trattarli con una crema per le mani per preservare il più possibile lo stampo poiché le resine possono essere più o meno aggressive deteriorare più velocemente lo stampo questo è vero perché molti stampi fatti a mano anche quelli colorati perdono il colore quando li colli la resina o possono perdere lucentezza questo l'ho già riconosciuto cioè l'ho già constatato in altri stampi che ho non lasciare gli stampi vicino a fonti di calore o sotto la luce del sole diretta perché potrebbero alterarsi vero io li tengo ah è arrivato il sole conservare il luogo pulito è chiuso per ridurre l'accumularsi della polvere sì anche perché è praticamente una cosa odiosa la polvere che si forma su questi stampi perché rimane appiccicata in una maniera impressionante i nostri stampi sono antiaderenti con quasi ogni tipo di materiale tranne che con gli altri materiali a base siliconica ok i nostri stampi possono essere utilizzati con diversi materiali come resine di vario tipo gesso, marmorina, cera, sapone, paste polimeriche, pasta di mais, pasta di sale e molto altro consigliamo di prendere adeguate precauzioni per i materiali che si andranno ad utilizzare con le guanti, mascherine anche le guanti e gli occhialini protettivi se necessario questo è l'acquisto sì online la fatturina lasciamola a parte e adesso finalmente per 5 minuti posso vedere tutto quello che c'è qua dentro e sento una miriade di cose oh mimi oh mimi ma quanta cosa ci sono oddio allora prima di tutto voglio farvi vedere il bigliettino per tutte le cose ecco qua e questi sono i vari contatti bloccato il video per vederli oh mamma ma ci sono un sacco di omaggini qua uh eccolo oh questo e questo scommetto sì questi sono i due stampi che ho ordinato oddio oddio questi gli altri sono questi sono tutti in più ah da dove parto 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 allora partiamo da quelli che ho ordinato ovviamente spero solo di non fare io distruggo sempre i sacchetti meno male che a volte sono un po' più ampi quando sono giusti giusti il sacchetto io lo distruggo oh che bello sto colore mille oh mamma questo è il loro simbolo oh quanto sono carini e lucini che belli oh micro stellina oh ma è simile glitterato va a sentire l'odore ah profumo c'ha delle parti glitterose anche oh oddio bellissimo gli stampi sono lucidissimi all'interno e non vedo assolutamente l'ora di colarci qualcosa e farci tante formine bellissimi della dimensione giusta per fare le collane mi piacciono un sacco un sacco un sacco allora vedete che chiudiamo qua e lo mettiamo qua sopra oh che carino sacchettino così vediamo questi questi gli ho scelti a parte che si avvicina il Natale perché in giro ne trovo di stampini natalizi però sono sempre molto grossi quindi o sono utili per farci creazioni in fimo sopra oppure per decori dell'albero ma io volevo qualcosa per fare le collane ed eccoli qua super lucidosi anche loro ma guardate che bello sto colore dietro c'è sempre non so se riesco a farvi vedere che c'ha dei glitter qui è rimasto ah no qua c'è c'è una parte di glitter qua che sono lì pensavo fosse macchiato ma no no sono i glitter che si sono fermati oh guardate quanto sono teneri che poi quello che mi piace che sto vedendo qua è anche rifinito cioè i bordi ecco una cosa che stavo notando che è una cosa che spesso manca in chi vende questi stampi almeno per quei pochi che ho comprato non è rifinito il bordo non essendo rifinito va un po' all'insù perché ovviamente il collettatore in cui colano probabilmente è più alto di quanto colano la gomma andando all'insù spesso quando poi tu li appoggi in terra per creare lui tipo dondola o pende da una parte e quindi si incappa in cose scomode invece questo non so se lo vedete vedete che è totalmente piatto quindi penso proprio che l'abbiano rifinito ottimo ottimo dieci più per questa cosa perché è una cosa che veramente non fanno in tanti quindi perfetto io amo questi colori no adesso io voglio vedere questi no ma che bello è questo colore di questo stampo anche lui rifinito oh mio dio ma guarda ma che ma no vabbè bellissimo lucidissimo bellissimo questo colore cioè questo colore impressionante che bello questo questo cos'è questo cos'è questo pernato aiuto aspetta c'è un gioco spuntano dei capelli davanti sono ovviamente i miei anche lui rifinito oh che carino candy corn giusto quello di halloween oh che carino quanto è tenero che bello che è questo colore chissà mi avevano parlato di un pigmento che appunto avevi riflessi dorati penso sia questo è fighissimo oh mio dio ok aspetta andiamo avanti ah il simbolino omaggio no tieniti girato al contrario poi oddio che bello anche questo che questo ha il colore con i riflessi oddio ma che colore ma che colore spettacolare no quel cibo giapponese guardate oh scusate guardate quanto è carino ma guardate i colori no vabbè ma profumano tantissimo oddio è bellissimo anche lui rifinito nei bordi sotto no vabbè ma uno spettacolo e qua c'è l'ultimo ma quanti quanti omaggi che carino non mi aspettavo tutti questi omaggi oh che bello anche questo colore pastelloso beh un po' più un po' più acceso anche lui rifinito nei bordi stupendo questo è da far monito a loro quanto quanto apprezzo la rifinitura sui bordi qua c'è una bolla ma non ce ne frega niente a nessuno perché è sullo stampo esterno non ce ne frega niente anche lui lucido madò profumi ovviamente che carino no vabbè i colori sono uno spettacolo io glielo ho chiesti Lilla perché ho avuto in passato delle brutte esperienze con gli stampi colorati con le varie paste pigmenti e quant'altro e allora per paura di ricadere in qualche danno gli avevo chiesto guarda fatemeli direttamente del colore della gomma poi però la gomma è bianca semplicemente bianca e all'inizio mi avevano proposto di fare questa piccola colorazione qua leggera leggera poi io però ho furia di guardare i loro stampi è arrivato il sole e mi sono praticamente ve lo giro così e non si vedono i dati mi sono innamorata a parte che amo il viola e si sa perché è un po' difficile credermi uno stampo arcobaleno per me poverini e ho visto il Lilla e ho detto ma guarda magari se mi metti un goccino piccolo 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 di Lilla me lo colori un po' e poverina infatti mi hanno dovuto subire con queste mie problematiche su cosa mi era successo con gli stampi colorati e sono state carinissime e mi aveva già detto mi avevano detto che mi avrebbero messo un omaggio e mi avevano chiesto se lo volevo anche lui neutro colorato come il colorante di solito e infatti mi aspettavo l'omaggio di colore viola gli ho detto ma no guarda l'omaggio mettimelo pure colorato come lo fate voi di solito quindi con il quantitativo di pigmento come fate di solito così io posso testarlo e magari appunto se non succede nulla posso ricredermi sulle mie paure degli stampi colorati e altro che uno me ne hanno mandati ben quattro oddio questi sono bellissimi all'inizio questo pensavo fosse ancora più piccolo e invece no è della dimensione esattamente come lo volevo io esattamente la dimensione che piace a me e che mi serve a me questi sono una spettacolo no niente spettacolo questo super profumoso e questo ovviamente il pacchettino per il marito che dopo glielo faccio vedere quindi sono stra 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 felice soddisfatta e loro sono dolcissime bravissime disponibilissime gentilissime mi hanno dato un sacco di consigli su come colorare le parti le parti quelle opache non solo loro anche Silvia ma di questo poi vi parlo nel video unboxing dell'ordine fatto da Silvia che dovrebbe arrivare anche l'uno a giorni e mi hanno dato un sacco di consigli anche sulla gomma siliconica da acquistare perché se vi ricordate io mi sono fatta fare delle forme in taglio laser vi lascio poi il video alla fine di questo video e per crearmi appunto degli stampi per me ma non sapevo bene che gomma usare quindi mi hanno consigliato la gomma e mi hanno dato tanti consigli quindi ho apprezzato molto questa cosa visto che al giorno d'oggi difficilmente non è diciamo che non è così semplice trovare creative persone disposte a raccontarti magari qualche piccolo segreto darti dirti indirizzarti su che venditori contattare per comprare i materiali ognuno pensa un po' al proprio incasso più che provare a dare una mano a un altro e va benissimo uno può anche far così però ovviamente apprezzo ancora di più quando invece una persona non si preoccupa di quello ma anzi è contenta di consigliarti quindi grazie di cuore e nulla siamo al quattordicesimo minuto quindi quasi quindici quindi io vi saluto non vedo l'ora di usare questi stampi e quindi appena li avrò usati li farò uno scopriamo insieme così vediamo come sono venuti e poi ci vediamo presto anche col video con gli stampi coordinato da da Silvia e niente ancora grazie mille di cuore ragazze perché è tutto strapprezzato i colori li adoro ma ve lo dirò anche in privato grazie 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 vi mando un bacione enorme lo mando anche a tutti voi che state guardando il video e ci vediamo spero presto con il secondo video unboxing e poi magari con il video scopriamo insieme le creazioni di resina ciao ciao